Piccola, cos'è Trieste e Sonia? Trieste e Sonia è una fiaba che nasce dall'amore per questa città, dai ricordi della mia infanzia e dal desiderio di renderli visibili anche agli altri. Inizialmente il progetto è nato come un fumetto e quindi ho collaborato per trasformare questi spunti in una unica storia collegandoli dal punto di vista narrativo. Quindi questi dodici sogni sono legati da un filo conduttore che sono appunto la coppia dell'anziano con la bambina. E io stessa che le avevo create ho capito la potenza dell'idea svedendole in nuoversi. C'è un po' di magia in tutta questa storia, dell'assurdo. Mi è sembrato veramente come se si stava creando una piccola leggenda. L'animazione serviva come anello di collegamento per raggiungere un effetto di realtà. Realizzare un prodotto del genere era un'impresa impossibile quasi. Sicuramente erano due persone all'inizio. Siamo riusciti a fare quattro minuti in sette mesi. Trieste e Sonia ha bisogno un po' del vostro aiuto. Se volete vedere questo sogno completo. L'unico sogno concreto è un sogno collettivo.